Ancora disagi per gli utenti delle poste nel comune di Vallo della Lucania. Questa volta a segnalare il caso è Francesco Grillo, segretario provinciale della FAIL per Salerno. Dal 21 agosto scorso la filiale poste di Sala Consilina da cui dipende Vallo della Lucania per poter sostituire il sistema di area condizionata dell'ufficio centrale ha deciso di spostare l'attività dello stesso in un piccolo ufficio mobile posizionato davanti alla sede del comune di Vallo. L'inadeguatezza e la mancanza di requisiti per quanto attiene la norma sulla sicurezza e igiene sui posti di lavoro, evidenzia Grillo, ha fatto insorgere la FAILP CISA alla Salerno che è stata costretta ad intervenire per segnalare alcune criticità. L'angusto spazio in cui sono costretti a lavorare alle alte temperature del periodo i due operatori nelle uniche due postazioni disponibili, tutti gli altri dipendenti applicati a Vallo sono stati costretti alle ferie forzate, l'enorme difficoltà a cui viene sottoposta la clientela sconcertata e posizionata in piazza in piedi al sole di fronte al furgone postale per lungo tempo in attesa di essere serviti, sono sicuramente uno scenario poco felice. Di tale situazione è stata informata anche l'ASRA e la Direzione Provinciale di Poste Italiane, per fortuna però i disagi dovrebbero essere giunti al termine, dal lunedì riaprirà l'ufficio centrale.